Siamo nel sud della Spagna per una prima presa di contatto con la nuova VR450, una moto estremamente evoluta che condivide con la versione cross il layout progettuale, ovviamente addolcito per l'utilizzo in enduro. L'obiettivo del progetto era quello di centralizzare le masse e di avere una performance superiore rispetto al passato ed è stato completamente centrato. Abbiamo avuto modo di provarla in quest'area desertica stupenda su un percorso molto simile a quello che è il contesto tipico delle gare Baja, delle Bahia. Questa moto qui è veramente a suo agio. Per Yamaha il target si è spostato leggermente più verso l'utilizzo sportivo, verso il pilota professionista. Il potenziale è decisamente superiore, è un motore molto potente, molto brillante, molto corposo, una rapportatura del cambio molto azzeccata ed è un telaio che offre una stabilità incredibile. Questo può essere una prima. C'è una macchina, questo vuole passare. Vai, 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 vai. Va bene così. Bene? Sì, sì, dai.